Ehi, doffi, ehi, doffi, ehi, uno, tre, due, tre, tre. Siamo iniziata. E ora si andiamo. E guardate. Ivarati, Ivarati. E' tutto il rischio. E' iniziata. 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 E proprio. E' iniziata. E' iniziata. E «s Oddio». E' iniziata. E' iniziata. D'entr statements. E Stroh! Soprattutto come persona Prima di Karateca Tiene che essere Viva Dachi 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 Intentar proporcionare il carattere Ser correcto, leale e puntual Trattare la superazione Respetare al mas Appenerse il procede violento Mimini, venga! Applausi Una plaquita per aiutare tutti i nostri carini e i nostri familiari che si vengono Applausi Grazie 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 Grazie.